...e lui arriva al giardino e lei voleva il cane, ma quando si sono... ...le Rebecca... ...le voleva tenere, il cane è andato a vivere con lei in appartamento, ma ti rendi conto... ...mamma mia, non mi far sentire queste cose in chiusura, guarda che vado fuori... ...vado fuori, vado fuori dalla radio, amici, insieme a Rebecca, perché abbiamo finito, ma torniamo dentro domani sera... ...torniamo domani sera, puntualissimi, dalle 21 alle 23, amici, come sempre, da lunedì al venerdì, insieme a noi... ...Rebecca Staffelli, Alessandro Sansone, al nostro Mattia in regia e al nostro Kiko... Grazie ragazzi, amici belli, ci ritroviamo domani sera qui su Radio 105, tra poco c'è la replica dello ZO, grazie a tutti, e ci vediamo, e ci sentiamo, domani... Ciao, buonanotte!